Noi ci arriviamo la settimana prossima come consiglio regionale Lombardo, dopo mesi di lavoro e preparazione e tutto il resto però ci arriviamo su un progetto di legge che dobbiamo farlo ma che è diventato soprattutto un problema quasi di disagio, lo facciamo perché dobbiamo farlo, perché non c'è spinta da parte di nessuno rispetto a questa approvazione, lo dobbiamo chiaramente la coscienza anche nel nostro corpo parlamentare di capire che cosa fare, questo è il senso, oggi noi dobbiamo metterci in testa e io credo che per il tempo possa essere stato dei cambiamenti radicali, cioè se un killer gli effetti mi sono fermi attenzione non parla di colorazione politica.